E Chieti, la città che spreca più acqua in Italia, dei 12.200 metri cubi messi in rete, il 72% si disperde. E quanto emerge dai dati Istat, sui quali ci si è interrogati al convegno che si è svolto questa mattina a Lanciano, organizzato dalla Sasi, l'azienda che gestisce acquedotti, depurazione e fognature per 87 comuni della provincia di Chieti, compresi nel territorio del lato 6 Chietino. Nella giornata internazionale dedicata all'acqua si sono confrontati gli addetti ai lavori, i sindaci del territorio e il mondo universitario con un unico obiettivo comune, contenere la dispersione delle acque e prevenire gli episodi di emergenza idrica. Presidente, cosa si può fare per migliorare il contenimento idrico nella nostra regione e la disponibilità idrica? La disponibilità idrica dipende innanzitutto dalle fondi di approvvigionamento. Purtroppo con questa carenza degli ultimi anni stiamo attraversando momenti più che difficili. Già dal mese di gennaio stiamo attuando delle turnazioni, turniamo su 30 comuni per un totale di 30.000 utenze. Essendo ancora l'estate molto lontana abbiamo serie preoccupazioni. È vero che su questo aspetto abbiamo tre grossi progetti già finanziati con il PNRR, però sono lavori che daranno una risposta tra il 2026 e il 2027. Cosa essenziale è l'ultima misura che è uscita per quanto riguardano i gestori dell'acqua che è quella del recupero delle perdite all'interno dei centrostorici. Oggi mi dicevano che la città di Chieti è risultata ultima in Italia addirittura per la perdita dell'acqua e in più l'Italia è la nazione del mondo dove si perde più acqua. Grazie a tutti.